E benvenuti ragazzi sono Alessio Nerazzurro e bentornati in questo nuovo video Ragazzi Ma quest'Inter ragazzi è una roba favolosa, una cosa incredibile Ragazzi scusate se ci ho messo tanto a fare il video della partita Ma purtroppo la sera della partita ero stanco Poi sapete, cioè ve lo dico adesso, io la mattina mi sono alle 5 e mezza Perché vado a scuola un po' più distante Quindi sono sempre stanco, ho bisogno di tempo Il pomeriggio non ho avuto tempo, la sera neanche E l'avrò aspettato adesso che tra l'altro è anche finito il campionato Cioè è finita sta giornata di Serie A E quindi ragazzi, ecco, poi domani sera uscirà il video del Fantacare No cazzo domani sera non posso, sono via E allora uscirà O lo registro adesso No ragazzi dove lo registro, lo registro coso? Sabato sera No perché sabato sera, eh sì sabato sera dai che c'è l'altra giornata Vabbè ragazzi vedrò, comunque cerco di caricarlo il più possibile Perché la giornata di Fanta è finita E ragazzi ci saranno delle sorprese Comunque ragazzi proviamo dell'Inter, mamma mia Che dire Allora, abbiamo sofferto un sacco il primo tempo Malissimo l'Inter il primo tempo Screener, comunque Gonzales è uno stronzo Perché va che lì era fallo E gli ha dato comunque gol Poi segna Sottil Sottil ragazzi, segna solo contro l'Inter Poi non fa più niente tutta la stagione Vabbè, il classic ci rompi palle Vabbè Allucinante, allucinante ragazzi, veramente Poi l'Inter al secondo tempo ragazzi si trasforma Fa gol Darmian Poi dopo tre minuti segna Dzeko E poi all'87esimo su un contropiede che era sbilanciato E segna Dzeko Eh sì, Perisic Però ragazzi potevamo farne ancora di quelle che c'eravano sbilanciati Sì, bellissima partita della Fiorentina Nel primo tempo Però l'Inter ragazzi sta dimostrando veramente che C'è È un po' come l'anno scorso però c'è È molto forte e si impegna È veramente una squadra fortissima quest'anno Stiamo giocando veramente molto bene Per adesso Poi viene da più avanti Ma per adesso benissimo Niente da dire ragazzi Soddisfattissimo Bisogna continuare proprio perché la prossima c'è l'Atalanta L'Atalanta non mai sottovalutare l'Atalanta Perché l'Atalanta ci crea sempre abbastanza problemi Comunque ragazzi è tutto Godova è quella merda di Fiorentina Meritava di perdere perché mi sta sulle palle la Fiorentina Perché contro l'Inter fanno sempre Un po' i furbetti E poi però gliela mettiamo nel culo noi Boh E se la merita Fiorentina mi sta pure sulle palle Quel Gonzales lì che è stato espulso Lì ho pure goduto perché se lo meritava Gonzales Che giocatore che mi sta sulle palle Gonzales veramente Vabbè ragazzi Sono contento così Ci vediamo con un prossimo video Ciao a tutti